Siete pochi, dimostri che voi non siete intelligenti, simpatici, amate il teatro, anzi direi il contrario perché siete pochi, ma talmente affettuosi, talmente carini che mi rendete felice. Quello che dicevo io, in fondo quando uno dice riceverai un premio in questa città e tu pensi che tutta la città sia entusiasticamente pronta a riceverti eccetera, arrivi e trovi quattro persone in platea, arrivati leggermente colpito, non so se sbaglio. Quelli che sono venuti, beh, quelli che sono venuti sono da simpatia e chiaramente è un affetto che mi sconvolge e quindi vi ringrazio di essere venuti, anzi fate sempre così, vedete, il meno che potete.